Allora arriviamo dal corso traiano all'interno 68 e accanto all'ingresso olympic eccoci qua movimentalmente prossima apertura per tutti le indicazioni sono queste potete chiedere info corsi e dettagli abbiamo panchettato meraviglia ecco laura che è sempre attiva questa è la salsetta però purtroppo non abbiamo la luce questa qui sarà la comfort zone dove potete venire rilassarvi un attimino un po di musica sarà qualche libro sfogliatoio e lì non entro perché non c'è non si vede più e in fondo il bagnetto quindi a febbraio si parte movimentalmente forse operiamo 68 barra 13 ciao